in maremma trova la ragazza cinghiale la scrofi oh se poi è veramente oh la scrofi porco gira sta figlia di stronco ma ora ucciderò Frisco ok then è vero ma giovedì a che ora ci troviamo non lo so mai dopo scuola e dopo scuola a che ora quando tu esci alla scuola va alla stazione io prendo il 6 pertanto per finire alla stazione ieri a cazzo scorta madonna la sti con te ieri che cazzo li hai messi pezzo di lo rompo lo rompo lo rompo oggi lo rompo cosa rompi poi oggi rompo l'armadio l'altro l'altro è oh via voi avete smart tv il compas tra poco dovrebbero cambiare la mi si vedo mi si vedo è vero cosa tanto per me non è problema perché la vostra di voi è smertesibili la mia no ci ti danni decoder mi se ne frede dei decoder con una televisione 9 via tanto ho mai freddo o prima e io mi ritrovo sopra la fabbrica degli armadi eh pensavo del cioccolato in realtà dovevo dire armi in realtà stai in piedi stai in piedi stai su no stai su no che è direzione sbagliata va bene era normale Michael si diceva direzione sbagliata prende doveri dopo le fabbriche quali sono le fabbriche quel porco di dio porco te lo dicevano no ma che quali fabbriche poi rispondi te lo diceva a noi ma che ne so se mi dici quali sono le fabbriche ti rispondo ma te rispondi direzione sbagliata non lo diceva pure no la mia cani allora mi diceva non mi diceva una sega direzione sbagliata no ah ah mi ha preso un puntino non doveva prendere ottio ottio che dolore ottio che dolore ottio che dolore madonna cosa cosa hai preso come sei preso col codio allora c'è l'armadio no ci sono i libri si ci sono i libri c'è l'armadio popolaro armadio ho testo un caccio sull'armadio con il piede il mignolino gli andava a farsi fottere no 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 eh c'è senti le dita senti le dita dove ci sono le dita tu senti le dita non le senti più ora prima prima no prima arcatroia non gira più non sto facendo più una sega io non sto facendo più una sega 20 10 minuti 17 minuti di buono io non tiro più calci io non tiro più calci io non tiro più calci non tiro più calci un su 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 ma senti le dita senti le dita avanti avanti oh via anche quell'altro fatto da del telecomando oh via no 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 ma cos'era ma io non lo so ora gli arriva